Antonio Uricchio è il nuovo rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, è stato eletto ieri sera nel turno di ballottaggio che lo ha visto contrapposto a Stefano Bronzini. Uricchio, 52 anni, è direttore del Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, già preside della seconda facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, nonché professore ordinario di diritto tributario allo stesso Ateneo. L'Università che immagino, ha detto Uricchio pochi minuti dopo l'elezione incontrando i giornalisti nell'atrio di Palazzo Ateneo, sarà aperta ai giovani e guarderà lo sviluppo del territorio. Il nuovo rettore è stato irritualmente festeggiato nel tragitto dalla facoltà di giurisprudenza all'Ateneo con core di gioia da parte di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.